A due mesi esatti dal tragico incidente avvenuto a bordo del traghetto Sansovino della compagnia Caronte Turist per le isole minori la procura di Messina continua ad indagare sulle cause del decesso dei marittimi Christian Michaelizzi che è da Notambre e Santo Parisi. L'attività giudiziaria è coordinata dall'Aggiunto Giovannella Scaminaci. Nelle ultime ore sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi sulla nave che si trova ferma al molo Norimberga. Acquisita a documentazione adesso al vaglio degli inquirenti. La società ha fatto richiesta di sequestro per poter tornare a utilizzare il mezzo destinato ai collegamenti regionali tra la Sicilia e le isole minori ma la procura ha deciso che ancora non è opportuno. Se è al momento gli indagati, anche se l'inchiesta potrebbe coinvolgere presto altri soggetti. La compagnia di traghettamento è intanto consegnato gli assegni alle vedove delle tre vittime. Il personale delle diverse società che fanno riferimento al gruppo Caronte Turist ha devoluto a favore delle famiglie di Michaelizzi, D'Ambra e Parisi una giornata di paga. L'importo raccolto è stato di circa 43.000 euro che gli armatori hanno deciso di raddoppiare così la somma destinata a ciascuna famiglia è stata di 29.000 euro.